Arriva a tagliare il traguardo della 17esima edizione il premio Rocky Marciano, un appuntamento ormai imperdibile per l'Abruzzo e per tutta la comunità di Ripatiatina, che ogni anno ospita sportive e campioni di fama regionale e nazionale. Da quella prima edizione del 2005 di talenti ne sono passati, di sogni ne sono stati realizzati, di storia se ne è raccontata e riscritta. A condurre l'evento il giornalista di rete Ottosche Sport, Enrico Giancarli, a cui è stato consegnato il premio stampa e tv dalla voce di Radio 24, Dario Ricci. Ospite d'onore della serata è stato Gabriele Gravina, riconosciuto come sportivo abruzzese dell'anno. Il presidente della FIGC ha rivissuto tutti i più bei momenti di questo europeo insieme presenti e commosso dal finale si è lasciato andare in un discorso motivazionale, rivolto ai giovani a credere nei propri obiettivi e nelle proprie capacità, a non soffermarsi sui festeggiamenti di una vittoria, ma sul progetto, sul percorso e sui sacrifici che portano a vincere. Dal miracolo Castel di Sangro ai vertici della Federcalcio, il suo operato come dirigente ricorda agli sportivi abruzzese italiani che non esistono obiettivi impossibili quando si è animati da sincera passione e amore per lo sport. Queste le motivazioni che lo hanno premiato sotto gli applausi del pubblico nella cornice del suggestivo e antico convento francescano del piccolo comune Chietino, un incontro importante in cui si è detto onorato di partecipare. Un riconoscimento importante per un lavoro, un lavoro che è stato portato avanti con grandi sacrifici, tutti lo sanno, quindi noi siamo contenti perché ricevere un premio questa sera vuol dire che c'è stato un buon lavoro, ma al di là del risultato sportivo credo che questo premio vada nella direzione di riconoscere soprattutto i meriti del valore di un percorso e di un progetto e questo credo sia più gratificante. Oltre al presidente Gravina, altre due stelle hanno illuminato la manifestazione, rivivendo le loro carriere e i loro più importanti traguardi. Il campione olimpico e mondiale di Pugilato, Patrizio Oliva, e il loro olimpico e mondiale nel mezzofondo, Alberto Cova. Ad entrambi il premio Rocky Marciano, la carriera. Poi i riconoscimenti agli atleti abruzzesi, a partire da Luca Iovoli, premiato come Pugile Abruzzese dell'anno. Le ragazze del Montesilvano calcia 5, vincitrici dello scudetto nella Serie A Futsal femminile. Un premio speciale rivelazione sportiva dell'anno alla squadra Tenagli Altino Volley, che ha spiccato il volo verso l'A2 femminile. Al Chieti Basket 1974 per l'ottima stagione sportiva. E infine un premio speciale sport senza barriere a Elenia Colanero per il record mondiale di apnea dinamica lineare con pinne. Menzioni speciali poi anche per Luigi Alfieri, Stefano Ramundo e Anna De Donato Liparulo.